ciao a tutti e benvenuti al mio canale come avete visto dal titolo siamo ancora dentro la tiger questa è la terza parte spero vi piaccia ma prima di cominciare come vi chiedo sempre di rimanere insieme a me fino alla fine del video di iscrivervi al canale per chi non l'ha ancora fatto e cominciamo ok adesso vi farò vedere un po di giochi per i bambini vi faccio vedere questo che bellissima una statuina di sicchia cenoci che può essere colorata ha già i colori dentro qua abbiamo il set di pentoline di bicchierini e piattini che sono anche in ascolto ci sono tante cosine carine per i bambini ci sono alcune cose per giocare e magare all'esterno queste bolle qua piccoline poi c'è anche la ricarica con la più grande che trovi solo il liquido dentro e poi ancora più sopra vi faccio vedere che c'è quella sparavolle che costa anche 20 euro trovo che queste borsettine qua siano molto utili adesso per i piccoli magari per chi adesso è il bambino piccolo lo sa benissimo che è utile per metterci la merenda per portare magari qualche giochino ci sono anche le mollette queste quasi giochini qua sono tutti magari per portare spiaggia questo qua è per pescare e questo poi si allunga benissimo noi giochi da portare al mare queste pare qua questi colori qua color pastello vi farò vedere questi giochini qua guardate c'è questo kit ancora di teiera ma questo viene 10 euro vi faccio vedere questo qua che è un aereo è leggerissimo così da poterlo far lanciare farlo volare non riesco a capire cos'è ma secondo me per portarlo su nella spiaggia ci sono qualsiasi anche con le palette a tre euro piccolino poi c'è questo è una mini piscina da guardate se scavi dentro è una mini piscina che carina 6 euro e poi per far divertire magari piccoli queste qua invece sono le pistole 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 d'acqua quelle più piccoli non è un euro poi sono più grandi queste sono le carte tipo memori e queste quali anche se ci sono anche ne sconto a 2 euro anche questo qua questo è il 50 per cento di sconto faccio vedere questo qua sembra un agenda no sono tipo dei sticker da mettere per i piccoli a 4 euro a 4 euro che vi faccio vedere questi giochini qua anche qua ci sono le tazzine a un euro che sono scontate ecco questa tazzina che non che cambia colore sconto al 67 per cento poi vi faccio vedere questa la valigetta di magic di magia è carina i braccialetti qua qua ci sono una scatoletta magari da metterci dentro i giochi abbiamo questo qua che è quello che una lampada luminosa che ci puoi mettere le lettere dentro e anche scontata a 3 euro ok vi faccio vedere un po qua ci sono queste che sono più piccole sono 4 euro un po di giochini qua abbiamo invece queste che sono anche queste sono scontate sono da far giocare sono i blocchi cioè ti puoi mettere su poi c'è questa valigetta qua che sarebbe il fornello con le pentoline dentro c'è la padellina e la pentolina col coperchio e nel mestoli molto carino con l'idea di ottenere tutti insieme poi non potevano mancarci queste buste qua questi sacchetti che sono a sorpresa che tu le acquisti non sai cosa c'è dentro ma praticamente una sorpresa è carino da prendere come regalo poi ci sono i secchieri che sono separate magari questo è trasparente